Siamo a Palazzo Vallelonga con il Presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione. Di recente l'approvazione del bilancio, Presidente, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti? Direi assolutamente di sì, c'è da stare molto soddisfatti per i risultati raggiunti con l'esercizio 2019, ma al di là dei numeri che fermano, danno un'immagine precisa della situazione della nostra banca al 31 dicembre 2019, c'è un motivo di soddisfazione proprio perché la banca ha dimostrato di essere ancora più viva, dinamica, vicina alle imprese e al territorio. Quindi i risultati sono molto soddisfacenti. L'utile di 8 milioni e mezzo ne testimonia l'operatività della banca. I coefficienti patrimoniali che da 13 e 20 passano al 14% dà il coefficiente di solidità della banca ed è uno di questi, insomma, il migliore degli ultimi dieci anni. Nel contempo anche il patrimonio che aumenta, quindi rafforziamo ancora di più la solidità della banca e quindi c'è motivo proprio di essere soddisfatti. Ci sono altri indici che magari sono un po' più tecnici, se parliamo anche della rischiosità del credito, abbiamo avuto un abbattimento sostanziale del 60%, abbiamo avuto un dato importante, 280 milioni di euro di nuovo erogato, quindi significa essere vicine a imprese e famiglie. Quindi i dati sono molto soddisfacenti. Risultati dunque che consolidano la posizione della banca, che parlano di crescita e fanno guardare anche con molto ottimismo al futuro, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo. Ma certamente, noi siamo abituati a guardare al futuro, però qui è necessario fare un passo indietro e vedere come eravamo posizionati invece tre anni fa, due anni fa. Quindi c'è stato un lavoro sotto la guida competente della direzione generale della banca, del dottore delle femmine, che ci ha di fatto, come dire, creato valore su questa banca. Oggi possiamo affrontare anche una crisi della quale ancora noi non conosciamo bene come si materializzerà, ma sicuramente con le spalle più forti. Guardiamo avanti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di essere una banca di riferimento importante per tutto il territorio della Campania, una banca importante a livello nazionale, anche per tutto ciò che stiamo mettendo in campo rispetto a questa emergenza Covid-19. Abbiamo avuto attestati provenienti dagli organi di vigilanza, ma anche dagli stakeholder più importanti per questo impegno che abbiamo fatto. Quindi è una banca che sta crescendo, sta crescendo sia in termini di numeri, ma anche in termini di valori. Cioè quei valori che secondo me una banca di territorio deve esprimere, il coinvolgimento delle persone, una reputazione che sicuramente è migliorata. Il rammarico più grande, lo diciamo, è che quest'anno con un 8 milioni e mezzo di utili ci sarebbe stato anche la possibilità di dare un dividendo ai nostri soci, ma come ben saprete sia la BCE che Banca d'Italia ha sospeso il pagamento di dividendi di tutte le banche, proprio per rafforzare i parrimoni, poi per far salare i parrimoni e per affrontare con più forza queste crisi. Quindi voglio dire, ci aspettiamo questo impatto. Noi siamo convinti di poter superare anche un momento di crisi, cercando di essere ancora più vicini alle imprese e alle famiglie. Per ora siamo abbastanza sereni, insomma dico a tutto essere sereni perché tutto il percorso virtuoso iniziato due anni e mezzo fa con un piano industriale della banca che stiamo cercando di rispettare a pieno ci consente in qualche modo di continuare su questa strada e quindi di pensare al futuro in maniera molto ottimistica. Guardando a quello che è il ruolo sociale che sempre ha avuto questa banca, è stata approvata anche la dichiarazione non finanziaria. In che cosa consiste? La dichiarazione non finanziaria è un documento ormai obbligatorio che le aziende devono fare dove in qualche modo si tira il bilancio delle attività fatte sull'impegno sociale, diciamo l'impegno dell'impresa di territorio verso il sociale. Quindi quest'anno poi è stato anche questo particolarmente ricco, ricorderete le iniziative delle banca a favore dell'ambiente, le borracce che abbiamo dato all'istituto, insomma tanto per intenderci e farci capire. Ma noi fondamentalmente ha importanza anche la relazione umana, il modo di essere vicino ai clienti, il modo di essere vicino alle imprese. Anche questo è una dichiarazione non finanziaria della quale noi ogni anno tracciamo le somme. Riteniamo e ne siamo convinti che un'impresa di territorio, un'impresa importante come la Banca di Credo Popolare, che da oltre 130 anni ha un'attività e un punto di forza per il nostro territorio, continui a crescere anche in questa dimensione, perché nel futuro si misurerà molto anche in questo, cioè la capacità di essere, non solo supportare le aziende e il ruolo delle banche tradizionali, ma anche il modo di come essere vicino alla nostra gente e come creare valore vero per il territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!